Salve ragazzi e amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi sono qua per parlarvi di un tema di grandissima importanza. Io credo che il Movimento 5 Stelle a questo punto dovrebbe andare in televisione, perché in Italia vi è una grandissima fascia di persone che non avendo accesso all'informazione libera della rete viene circuita da televisione e giornali. Queste persone qui, che idee si possono fare del Movimento 5 Stelle? Leggendo solamente i giornali e guardando solamente la televisione, sono vittima dei mezzi di propaganda politica. A questo punto il Movimento 5 Stelle per raggiungere questa fascia di persone deve andare in televisione, dobbiamo andare in televisione, fare del proselitismo proprio usando il loro campo e dobbiamo creare una tax force di persone abili e preparate in grado di affrontare la televisione. Già noi abbiamo avuto dei parlamentari che sono andati in televisione, questi parlamentari potrebbero fare benissimo parte della tax force e la mia proposta è questa. Siccome nel Movimento 5 Stelle vige la regola massimo due legislature, una volta finite queste due legislature, cosa facciamo? Le rottamiamo? Possiamo utilizzare queste persone che sono persone, se ne avranno voglia, che sono persone abili, preparate, sono persone anche che in un certo senso amano la nostra patria, perché sono persone che cercano in tutti i modi di abbattere una dittatura che di fatto esiste anche se silenziosa nel nostro paese. Creiamo una tax force di persone abili e preparate per combattere il nemico sul loro terreno. Se siete d'accordo guardate sotto questo video e trovate un link per votare questa proposta. Ciao a tutti e alla prossima!